Li conoscevo già negli anni precedenti, al di là che hanno il contratto o no, avevo sentito parlare molto bene in quei giorni che sono stati con me a parlare un pochino, ho avuto conferme di quello che avevano detto, sono persone eccezionali, non se ne ho parlato ancora con il Presidente, magari direi che entrambi le stassi, ma addirittura che Giovanna De Franceschi se facessero la vice a me mi sarebbe anche felice. Paolo Spettoli? Una curiosità a proposito del figlio del Presidente, dottor Lorenzo, sapere se quest'anno seguirà sempre il Padova, viene allo stadio, con frequenza e poi se è previsto magari un suo ingresso nel CDA? Per quanto riguarda il ruolo, come diceva mio padre prima, dobbiamo ottenere l'Assemblea del 25 perché oltre al mio verrà dipenditi anche altri ruoli. Per quanto riguarda la presenza, io penso di sì, potrà esserci qualche impegno che non mi permetterà di essere sempre presente, però è una presenza abbastanza assidua, direi che potrei garantirla. Grazie.